Quello che è difficile da definire, bisogna vedere quanto sarà il tasso di deposit overnight per le banche, che è meno 0,4 in questo momento, se lo porterà a meno 0,5 o addirittura andiamo verso la direzione della Svizzera, la Svizzera se non sbaglio è meno 0,8 e quindi andiamo a meno 0,6, cioè vuol dire che le banche di fatto non possono più depositare presso la BCE perché non ha assoluta convenienza e quindi dovranno andare sul mercato in altro modo. Quindi quello è l'effetto principale. Poi per quanto riguarda gli acquisti, anche lì bisognerà vedere quanto saranno selettivi, è perché abbiamo un bond che rende tra meno 0,6 e meno 0,7, se questi vanno ancora a comprare titoli di Stato tedesco, titoli di Stato comunque basati in base all'indebitamento e al PIL di ogni nazione, chiaramente le nazioni che già stanno bene come la Germania e l'Olanda avranno effetti ulteriormente positivi e a strascico ovviamente ci saranno effetti positivi anche per l'Italia e per i paesi più deboli, ma inferiori. Quindi spero che sia più selettivo questo acquisto, che sia meno sui bond governativi e più invece su quelli corporate e spero proprio che vada in quella direzione. Grazie a tutti.